buongiorno dal giardino botanico di europa una nuova puntata online quelli che vedete sono i semi di un rododendro sempre himalaiano non nostrano così uno dei cosiddetti rododendri a foglie a foglie larghe che ancora non è ancora non è fiorito ma già ci fa vedere la sua come dire eccezionale dimensione un altro rododendro anche lui in fioritura originario anche lui della cina dell'himalaya questo è un pochettino più prostrato rispetto agli altri che abbiamo visto i rododendri himalaiani fioriscono molto presto al giardino botanico di europa questo è il rododendro barbatum il colore così rosso da far impazzire i pixel dei sensori delle macchine fotografiche e quindi chissà come verrà questa ripresa